Proviamo il Cancelli Akes 25 Walkaround, una barca interessante per tanti motivi a cominciare dalla sua costruzione di alluminio, una tecnologia poco considerata dalla nautica italiana ma con alcune caratteristiche interessanti su tutte la leggerezza e la robustezza. L'organizzazione della coperta è un compromesso fra una barca da crociera e un fisherman quindi c'è la vasca del vivo, c'è un'ampia dotazione di gavoni, c'è un hardtop rigido che funge anche da porta canne, poi ci sono spazi abbastanza fruibili come il prendisole prodiero e la cabina abbastanza comoda per la cucetta doppia. Nonostante il lago calmo la carena ha confermato le sue eccellenti doti con una velocità di punta di 44 nodi con un motore Suzuki da 300 cavalli e buoni dati anche di accelerazione, siamo entrati in planata in meno di 4 secondi e abbiamo raggiunto i 40 nodi in 18 secondi, quindi un'eccellente prestazione generale, conferma che l'alluminio con le sue doti di leggerezza permette delle performance buone, tanto da poter pensare anche a una motorizzazione un po' meno esuberante.